e con la sofia ha fatto anche tutto il giro, si brava, brava lei, pensai che te l'è bene, è una foto di strada, magari stasera lo facciamo anche noi tutto il giro, no? è lungo? è lungo, è previsto nel tuo giro, no, il mio giro era previsto questo tratto qua, adesso la cosa dov'è? Avanti! Alla prossima 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 Alla prossima